Buon pomeriggio a tutti. Iniziamo la seconda meditazione del giorno. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Cari smi, stamani stavamo parlando della questione di autorivelazione del Signore stesso. Abbiamo finito la prima parte della nostra riflessione facendo un paragone tra la chiamata di Mosè e la chiamata di Gedeone. Abbiamo visto che Gedeone viene mandato dal Signore a liberare il popolo suo da Median. Infatti, dove si trova Mosè adesso? Mosè si trova proprio a Median. E uscito dall'Egitto, adesso si nascondeva a Median. Dopo tanti secoli, Dio manda il suo giudice, proprio a Median, a liberare il popolo di Israele. E' un gesto molto significativo perché non solo Egitto che rappresenterebbe la terra della schiavitù, ma Median pure rappresenta la terra della schiavitù. Prima di andare in Egitto, uno deve essere liberato a Median. Quello era stato l'argomento che noi parlavamo. Prima che liberarsi, uno non può liberare gli altri. Prima di andare in Egitto, uno deve essere liberato da Median. Anche questo luogo simboleggia, diciamo, un luogo dell'escavitù. Questo era stato il nostro percorso. Ecco, per cui il Signore sta utilizzando il suo strumento efficace, cioè Mosè. Infatti il nome di Mosè ci darebbe un po' di luce per meditare ancora la sua missione. Il nome di Mosè, Mosè, la parola Mosè, proviene dal verbo Masha, in ebraico. Masha significherebbe tirare fuori. Tirare fuori. Esodo, capitolo 2, versetto 10, questo versetto stesso rivelerebbe la realtà di questo significato. Quando il bambino fu cresciuto, lo portò dalla figlia del faraone. Egli fu per lei come un figlio, ed ella lo chiamò Mosè. Perché disse, io l'ho tirato fuori dalle acque. Io l'ho tirato fuori dalle acque. Quindi Mosè vuol dire, Masha vuol dire tirare fuori. Tirare fuori. Essendo un verbo nella forma infinitiva. Ecco, noi sappiamo che ci sono due tipi di verbi. Verbo infinitivo, verbo finitivo. O verbo finito, o verbo che ha una decisione definitiva. Una destinazione definitiva. Verbo infinitivo vuol dire, è aperto a qualsiasi cambiamento. Partendo da questo verbo, potrebbe essere nel passato. Potrebbe essere il verbo nel presente. Anche potrebbe essere il verbo nel futuro. Quindi è aperto. Il ruolo di Mosè qua, non è Mosè, Mosè non è un sostentivo, ma un participio. Partecipio. Quindi Mosè letteralmente indicherebbe uno che tira fuori. Colui che tira fuori. Estratore. Quale sarebbe il senso qua? Uno che ha l'incarico di tirare fuori il popolo di Dio. Dall'Egitto. Per cui lui viene tirato fuori dall'acqua. Vedete il collegamento dei concetti. Per cui lui viene tirato dall'acqua. Cosa significherebbe l'acqua? Acqua simboleggia salvezza. Sorgente di vita. Quando Mosè viene tirato dall'acqua, Mosè viene tirato dal sorgente d'acqua, sorgente dalla salvezza, sorgente dalla vita. Nel secondo livello il suo impegno è a dare, a condividere questa salvezza che lui ha ricevuto. Cioè andando verso il popolo di Dio che sta soffrendo in Egitto, e lui sta per compiere la sua missione. La sua missione. Quindi questo diciamo è il ruolo e la missione di Mosè. Infatti mettendo insieme questi due sostentivi possiamo arrivare a un concetto molto profondo. Mosè, il nome di Mosè, il nome non è proprio un sostentivo ma un participio. Esattamente uno che sta chiamando il Signore. Signore. Si chiama Yahweh. 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 È una tetrama sacro. Tetrama sacro. Quattro caratteri sono lì. Infatti il nome di Yahweh pure proviene da un verbo. Chayach. In ebraico chayach. Chayach vuol dire semplicemente essere. Essere. Chayach. È un verbo costitutivo del nome del Signore. Yahweh. Yahweh. Quindi in questa dimensione cosa si trova lì? Qua pure non è un sostentivo ma è un participio. Uno che esiste, uno che costituisce l'esistenza. Uno che stabilisce l'esistenza. Chi può stabilire l'esistenza? Solo uno che esiste può stabilire l'esistenza. Quindi più che un concetto linguistico, questo potrebbe essere un concetto abbastanza filosofico oppure teologico. In questa direzione, tutti e due, tutti e due nomi sono composti dai verbi. Partecipi. Quindi uno che chiama il Signore. Yahweh. Uno che viene chiamato dal Signore. Mosè. 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 Cosa significherebbe qua mettendo insieme quando si dice invece di un nome, un sostentivo e un verbo oppure partecipi vuol dire sembra c'è il dinamismo dell'attività. Sembra c'è il dinamismo del movimento. Perché un verbo nella forma infinitiva può essere passato, può essere presente, può essere, potrebbe essere futuro pure. Quindi aperto al movimento. Aperto al movimento. Qua significherebbe partendo dalla natura. Dal nome del Signore, dal nome di Mosè stesso, si può arrivare alla missione. Quindi carissimi fratelli e sorelle, quello che io vorrei dire. La missione collegata alla vocazione di Mosè è una missione collegata intimamente alla sua natura. Alla sua chiamata. Qualcosa interiore. Interiore. Quindi, partendo con la figura di Mosè, noi affrontiamo alcune questioni nel pomeriggio. La prima questione che noi affrontiamo, vedete, ci sono due domande principali che Mosè fa. Abbiamo parlato, ci sono cinque obiezioni dalla parte di Mosè. La prima domanda che Mosè fa, è il capitolo 3, versetto 11. Mi hanno chi? Mi hanno chi? Chi sono io? Chi sono io andare in Egitto e liberare il popolo del Signore? Questa era stata la domanda. Chi sono io? La risposta della parte del Signore è semplicemente, io sarò con te. Echie immac. Echie immac. Sarò con te. Sarò con te. Ecco, quindi, echie, quando si usa questa parola, echie, sarò, è la forma infinitiva allo stesso tempo, indica chiaramente il futuro. Nell'ebraico c'è una, che bella è la musica. Sì, veramente. Ecco, nell'ebraico il concetto è abbastanza diverso. Quando si dice, ci sono due, non per insegnare un po' di ebraico, perché c'è un senso molto profondo per capire, diciamo, la persona e la missione di tutti, dove Dio è Mosè. Quindi sto dicendo questa cosa. Imperfetto, il verbo imperfetto vuol dire aperto, un verbo aperto, che durava qualche tempo, che continuava un'attività qualche tempo. Potrebbe essere nel passato, potrebbe essere nel presente, oppure nel futuro. Quando Dio dice, echie, immac, io sarò, con te. Chi sono io? Dio risponde, io sarò, con te. Io sarò, con te. Dio risponde, domanda è una cosa, risposta è un'altra cosa. Dove stai studiando? Che bello è il mare. Dove stai studiando? Mare mediterraneo è molto bello. Che tipo di risposta? Chi sono io? Io sarò, con te. Però c'è un po' di tutto. La tua identità viene delienata tramite la mia vicinanza. La tua identità, la tua personalità verrà definita solo tramite il tuo rapporto con me. Tu puoi conoscerti, tu puoi riconoscerti solo tramite il tuo rapporto con me. Solo fino a quando tu sei con me, io sarò con te. Solo quando tu cominci a riconoscere la mia vicinanza nella tua vita, tu puoi riconoscerti. Il senso è quello. Quindi uno che viene chiamato dal Signore non ha un'esistenza in sé. Sembra che questa è una chiamata dal Signore a far parte della sua natura. Quindi in questo livello Mosè trova la sua identità proprio tramite la rivelazione del Signore, tramite il suo rapporto intimo con il Signore. Quindi la domanda è questa, chi sono io? Seconda domanda, chi sei tu? Qual è il tuo nome? Qual è il suo nome? La domanda è questa. Ma, Shemot, come si chiama? Come si chiama? Lì Dio risponde in una maniera molto differente. Dio le risponde. In ebraico, significa, vuol dire, di nuovo, vuol dire, io sarò. Asher, colui che. Eshi, ehi, asher, ehi. Di nuovo, ehi. Io sarò colui che io sarò. Lateralmente la traduzione è questa. Io sarò colui che io sarò. La prima versione della parte del Signore è questa. In greco, infatti, Iego, eimi, ho, on. Iego, eimi. Io sono. Colui che, eccetera, sta procedendo. Io sono colui che, ecco. ma allo stesso tempo, andando ancora un po', Dio sta confermando, tramite la sua vicinanza, Dio dice, io sono il tuo padre, padre di Abramo, padre di Giacobbe, padre di Isacco. Dio sta confermando la sua identità. carissimi fratelli e sorelle, mettiamo insieme questi tre concetti che provengono dalla autorivelazione del Signore. Un Dio che parla che io sono Dio di tuo padre, Abramo, Isacco, Giacobbe, vuol dire una cosa del passato. Secondo livello, io sono con te, Ego, eimi. La dichiarazione che si trova in greco, Ego, eimi, io sono, io sono colui che, nel presente, andiamo, andiamo a spiegare il stesso concetto tramite hebraico, dove si trova Egie, Asher, Egie, io sono colui che sono, oppure, in lateralmente, in hebraico, io sarò colui che sarò, Dio. tramite queste rivelazioni io vorrei accennare solo una realtà. Vedete, un Dio che assicura la sua vicinanza ieri, oggi e domani. Semplicemente vuol dire uno che ti ha chiamato e sempre fedele, e sempre con te, il senso è quello. Uno che era stato con te nel tuo ieri e con te oggi e sarà con te nel tuo domani pure. Quindi la presenza e la vicinanza per sempre è assicurata. Assicurata. Quindi qua, la cosa importante di pensare e meditare è la permanenza della sua vicinanza assicurata. Assicurata. quando Dio dice io sono padre di Abramo, io sono padre di Giacomo, io sono padre di Isacco, cosa significherebbe? Io sono padre di Abramo. Dove si trova un Abramo che ha attraversato veramente i momenti duri, difficili nella sua vita consegnandosi totalmente nelle mani del Signore. Abramo viene chiamato del Signore nel capitolo 12 del libro di Genesi. Lec lec, guattane dalla tua terra. Gli dice Dio, guattane dalla tua terra. Era stata una chiamata intensa. Abramo lasciato la sua terra. Poi, quando noi arriviamo nel capitolo 22 del libro di Genesi e si trova proprio il momento del sacrificio di Isacco. Però, però, ricordate, a questo momento quando Abramo sta per sacrificare l'Isacco, nessuna promessa era stata realizzata. Neanche della terra, neppure di una discendenza permanente. Prima di realizzare la promessa, le promesse vengono contestate. e con questo speso, la fatica della nostra vita pure. La fatica della nostra vita pure. Prima di avere una realizzazione delle promesse, spesso le promesse vengono contestate, provate, verificate. Di fronte a questa prova dura, Abramo dice, eccomi, io sono pronto a sacrificare Isacco che mi ha dato a questa età della mia vita. Quindi, il punto importante di pensare qua, quando Dio dice un Dio di Abramo vuol dire un Dio che era stato con Abramo in tutti i momenti della sua prova. Isacco pure lo stesso, Giacobbe pure lo stesso, uno che camminava sempre con i suoi in ogni momento della loro vita. Quindi, qua, è il momento importante di pensare l'assicurazione della presenza del Signore e l'assicurazione permanente. Permanente. nel contesto semitico conoscere il nome di una persona significherebbe conoscere la sua presenza e la azione. Conoscere una persona vuol dire conoscere la sua presenza sentita e la sua azione. Tramite qui c'è un altro dinamismo pure. conoscere vuol dire conoscere una persona vuol dire la persona che conosce un'altra persona avrà il potere sulla persona che viene conosciuta. Che viene conosciuta. Almeno un'autorità che si sente all'interno. però qua quando Dio dice io sono colui che sono Ejie Asher Ejie vuol dire Dio non ha rivelato il suo nome esattamente come ecco questa diciamo una spiegazione potrebbe essere. Adesso qua la domanda Ejie Asher Ejie io sono colui che sono il nome nome del Signore oppure una spiegazione della sua natura oppure la spiegazione della sua natura quale sarebbe? Perché Dio stesso rivela la sua identità andando avanti Genesi capitolo 6 versetto 6 e 7 6 e 8 in due versetti Dio di Genesi sembra Esodo 6 6 e 8 due versetti Dio conferma io sono anni Adonai Aniave io sono il Signore sono Dio sono Dio lì il nome utilizzato è Yahve ma qua Dio dice Ejie Asher Ejie io sono colui che quindi naturalmente tanti teologi interpretano questa sia come una spiegazione della sua natura la natura oltre che un'esposizione della sua identità Comunque e questo livello dell'esposizione del Signore ecco ci darebbe una luce ancora di più di più Comunque ecco gli autori come tanti autori come Filone Agostino San Tomaso d'Acquino Giovanni Damasco Pseudo Dionigi eccetera parlano eccetera cercano di mantenere il fatto che Esodo 3 14 identifica Dio come se stesso come se stesso come il nome proprio del Signore il secondo livello di questa rivelazione quello che abbiamo già iniziato un po' tramite questa rivelazione cosa intenderebbe Dio Dio sta assicurando la sua vicinanza il suo accompagnamento il suo accompagnamento perché un Dio che sente la sofferenza del suo popolo un Dio che vuole visitare il suo popolo i verbi che si usano lì in questo contesto della discussione tra Dio e Mosè Dio ha sentito guardato visto promesso e sono indirassato vedete un Dio che scende al livello della sofferenza dell'umanità uno che cammina uno che cammina con la sua gente con la sua gente vedete vedete esodo capitolo 33 versetto 13 parlerebbe in questa maniera indichiami la tua via la risposta di Dio io camminerò con voi e vi darò riposo quando Mosè parla con Dio a indicare la sua via via indicare la via del Signore Signore gli risponde io camminerò con voi e vi darò risposto e vi darò riposo cosa significherebbe non avete bisogno di un'indicazione io sarò con voi nel camminare in questo deserto quindi carissimi fratelli sorelle questa è l'assicurazione che proviene dal Signore che viene ribadita costantemente nelle Bibbie soprattutto vedete Isaia capitolo 43 versetto da 1 dove c'è la presentazione della marcia del popolo di Israele verso la terra promessa in questa marcia verso la terra promessa Israele dovevano attraversare alcuni ostacoli principali prima di tutto la Bibbia dice molto chiaramente io vi leggo un attimo Isaia capitolo 43 versetti da 1 ascoltiamo un attimo questo brano che ora così dice il Signore che ti ha creato o Giacobbe che ti ha formato o Israele non temere perché io ti ho riscatato ti ho chiamato per nome tu sei mio quando attraversai attraverserai le acque io sarò con te e i fiumi non ti sommergeranno quando camminerai in mezzo al fuoco non brucerai la fiamma non ti consumerà perché io sono il Signore il tuo Dio il Santo di Israele il tuo Salvatore io ho dato l'Egitto per il tuo riscatto Etiopia e Seba in cambio di te poi la parola dice chiaramente che io sarò con te qua il popolo di Israele deve attraversare tre ostacoli principali devono attraversare un mar morto un mare agitato al secondo livello devono attraversare un deserto bruciante secco al terzo livello devono attraversare un fiume traboccante Giordano Giordano quindi vedete questi tre episodi vengono raccontati in Isaia capitolo 43 tu devi attraversare tutti questi ostacoli però la parola dice io sono con te io ti ho riscattato io ti ho riscattato io sono con te anche se tu devi attraversare questi momenti duri io sono con te questo diciamo il dinamismo della sua presenza oppure la vicinanza un Dio che assicura sempre la sua vicinanza anche se anche se quando uno cammina verso la schiavitù abbiamo già visto un po' libro di Genesi capitolo 46 versetto 2 prima di scendere in Egitto Dio chiamato due volte Giacobbe 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 io sono con te io sarò con te in Egitto scendere con te camminere con te in Egitto io sono tuo Dio che tipo di assicurazione che tipo di assicurazione di nuovo vedete Genesi capitolo 28 anche lì c'è un bellissimo episodio Giacobbe sta per uscire dalla terra promessa dalla terra di Canaan uscito dalla terra promessa vuol dire andare finire in schiavitù uscito dalla terra promessa vuol dire andata in schiavitù ogni occasione ogni volta che la gente uscita dall'Egitto e uscita la gente è uscita dalla terra promessa sono andate finire andate finire proprio nella schiavitù quindi l'uscita dalla terra promessa è l'uscita in schiavitù nel capitolo 28 pure prima di uscita dalla terra promessa c'era una lotte con il Signore di notte verso la fine di notte verso la fine di lotte Giacobbe riconosce il Signore e chiede la sua benedizione e questo luogo è Betel prima di attraversare il confine della terra promessa prima di entrare nella terra di schiavitù poi uscendo dalla terra promessa sarebbe lì lui rimanerebbe lui rimanerà quasi 21 anni a Padanaram sotto la schiavitù di Labano noi sappiamo la storia 21 anni prima di andare prima di andare finire in questa schiavitù Dio le benedice non hai la paura di scendere io sarò con te un Dio che cammina anche nella tua schiavitù è un punto molto importante da meditare forse è questo stesso episodio si trova vedete nel libro di Giona profeta Giona dopo di predicare e proclamare la conversione e la gente lui non è convertito il problema è quello lui ha predicato la buona notizia della conversione però lui non è convertito rimani in attesa a vedere una scena stupenda che tipo di scena arriverà il fuoco dal cielo a bruciare l'intera città che bello vedere è rimasto lì nella tenda è un'espressione molto simbolica Dio viene da lui tira fuori basta rimanere qua distrutto la tenda pure non sappiamo la storia uno che ha proclamato la buona notizia della conversione non è convertito però Dio va in cerca di lui nella sua tenda Luca capitolo 24 versetto da 13 l'episodio di 2 discepoli di Gesù che camminavano verso Emmaus geograficamente camminare da Gerusalemme verso Emmaus è il cammino dall'Oriente all'Occidente significerebbe è un gesto della disperazione verso il tramonto verso il tramonto è un passaggio verso il tramonto è un segno della disperazione delusione e in questo processo anche Gesù accompagna questi due discepoli e noi sappiamo le storie al resto quando sono arrivati a Emmaus c'era il momento della condivisione momento della celebrazione in cui l'hanno riconosciuto e tutti due sono tornati indietro a Gerusalemme Gerusalemme uno che sta camminando con te anche se tu vai fuori fuori dalla città di Gerusalemme perché il destino del cammino di Gesù era stato sempre Gerusalemme secondo il racconto del libro di Luca sempre la città di Gerusalemme uno che cammina uno che si allontana dalla città di Gerusalemme vuol dire uno che va fuori dal progetto divino anche se tu vai fuori dal progetto divino ci sarà sempre la presenza di Gesù che ti accompagnerà a portarti indietro ad affrontare Gerusalemme l'altro punto Giovanni capitolo 21 praticamente nell'ultima scena gli apostoli erano stati insieme con Gesù per tre anni dopo la sofferenza e la morte di Gesù non avevano nessuna possibilità di uscire a rilassarsi un po' quindi qualcuno ha detto io vado a pescare tutti sono andati insieme anche coloro che non avevano mai pescato sono andati potete immaginare la profondità della delusione infatti quando Gesù gli ha chiamato gli diceva di non pescare più di diventare pescottori degli uomini non più pescottori dei pesci ma tornando indietro esattamente nella stessa trappola cosa significherebbe hanno perso veramente la strada vedete in questa situazione Gesù va indietro ai suoi perché sono chiamati da Gesù perché sono scelti da Gesù Gesù va in cerca di questi discepoli suoi che sono veramente andati fuori dal progetto del Signore che sono andati a finire in una delusione enorme Gesù va in cerca di loro e questo incontro in loro delusione è un incontro molto decisivo tramite cui sono di nuovo tornati dal Signore hanno cominciato a testimoniare il loro discepolato quindi il punto importante a identificare tramite questa rivelazione cosa Dio intenderebbe a camminare insieme con i suoi anche nelle loro schiavitù l'altro momento l'altro livello di questa rivelazione ecco questa rivelazione viene fatta a uno che si nascondeva Mosè si nascondeva a Median lui è venuto dall'Egitto venuto dall'Egitto in questo processo abbiamo già visto i suoi caratteri è un orfano praticamente non ha la capacità di eloquenza è un assassino uno che non ha la capacità di guidare un popolo uno che nascondeva dal popolo di Egitto e dal Signore Dio scende giù a trovare incontrare questo Mosè che si nascondeva che si nascondeva uno che nasconde significherebbe tanto non avrà la capacità di affrontare il Signore Luca capitolo 19 dove si trova versetto da 10 la figura di Zaccheio secondo il racconto biblico Zaccheio era stato piccolo nella sua statura è il capo che raccoglieva i soldi è una raccoglienza infatti ingiusta secondo il linguaggio biblico uno che è più piccolo nella statura è un peccatore adesso siamo tentati di pensare allora lei è molto piccola l'altro lui è molto piccolo forse ecco il motivo è questo non facciamo nessun giudizio adesso però il linguaggio biblico è questo uno che è più piccolo nella statura è un peccatore uno che non ha la capacità la forza di affrontare il Signore affrontare il Signore il messaggio è quello quindi cosa ha fatto se ne è andato a nascondersi tra le foglie sull'albero di Sicamoro si nascondeva tra le foglie ecco qua uno che si nasconde tra le foglie veramente ci progetterebbe un altro episodio biblico il primo episodio si trova nell'Ebro di Genesi capitolo 3 un giorno quando Dio cominciato camminare nel paradiso non si trovavano più Adamo e Eva Dio ha chiamato Adamo dove sei tu siamo qua Signore mezzo alle foglie siamo nudi perché abbiamo peccato abbiamo peccato quindi uno che cerca di nascondersi tra le foglie indicherebbe nel linguaggio biblico è un peccatore uno che sta tentando uno che sta provando di nascondersi dalle mani del Signore Dio va in cerca di questo personaggio quando Dio viene in cerca di Mosè vuol dire letteralmente questa questo è l'atteggiamento del Signore quando si dice io sono con te ecco l'altro momento potrebbe essere Dio incontra Mosè nel deserto nel deserto deserto è un'espressione un luogo molto simbolico dove uno viene veramente tentato provato duramente Matteo capitolo 4 Gesù stesso viene tentato il popolo di Dio nel loro marcia verso la terra promessa dell'Egitto in 40 anni il popolo viene provato duramente nel deserto è un luogo della solitudine un luogo dell'isolamento un luogo della sofferenza un luogo in cui tu devi combattere contro gli animali selvatici non è un luogo adatto per l'abitazione un luogo secco indicherebbe tante cose nelle sue nullità nella tua incapacità tu puoi trovare un Dio che scende al tuo livello quindi quando Mosè viene chiamato dal Signore nel deserto vuol dire è questo la rivelazione è questa in questo in questo contesto della sua nullità nullità andando avanti Dio rivela se stesso tramite questa espressione Echie Asher Echie al suo popolo che si trova nella schiavitù dell'Egitto la rivelazione del Signore intervento del Signore non per manifestarsi non per rivelare la sua identità anzi a aiutare ad arrivare al suo popolo che sta soffrendo l'intenzione non per mostrare la magnanimità del Signore l'ognipotenza del Signore più che questo dinamismo le cose importanti lì ad arrivare al popolo che sta soffrendo quindi ogni giorno cari fratelli e sorelle si può collegare questo concetto ogni giorno Dio viene nella nostra vita forse nella forma di Sant'Eucaristia forse la parola di Dio forse tramite un episodio forse tramite una vicenda della vita cosa sarebbe l'indicazione del Signore non per mostrare la sua onnipotenza ma per assicurarci che io sono con te Dio ha rivelato se stesso a un popolo che sta soffrendo nella schiavitù quindi ogni rivelazione divina è orientata alla liberazione alla liberazione l'ultimo punto che vorrei accennare tramite questa esposizione dell'autodichiarazione del Signore un'esperienza teofonica sul monte Oreb oppure Sinai e oppure un incontro personale con il Signore inevitabile ad affrontare ad andare in Egitto Egitto simboleggia il luogo dove il popolo sta soffrendo prima di andare a liberare il popolo che sta soffrendo tu devi avere un momento molto prezioso dell'incontro con il Signore altrimenti tu non puoi liberarli un incontro con il Signore inevitabile dalla vita di Santa Teresa di Calcutta c'è un episodio un giorno un membro della comunità una novizia le ha chiesto madre come mai oggi tu non vai per la strada a incontrare i poveri madre le ha detto no oggi non me ne vado cosa è successo parlando madre ha detto se me ne vado oggi Teresa andrà a incontrare i poveri che non avrà nessuna nessuna efficacia è conclusa la conversazione cosa era stata la realtà quasi tutti i giorni madre Teresa rimaneva almeno più di un'ora davanti al Santissimo Sacramento prima di andare prima di andare alla strada in cerca dei poveri almeno un'ora a quel giorno lei non è riuscita a rimanere davanti al Santissimo Sacramento perché è un buono come si dice un caro amico ladrone è andrato quindi c'era un po' di movimento drammatico le sue ore non potevano pregare hanno perso veramente veramente l'orario preciso della mattinata quindi lei non è riuscita a rimanere davanti al Santissimo Sacramento quindi ha detto oggi se me ne vado Teresa andrà a incontrare i poveri non Gesù se madre Teresa di Calcutta dice queste cose vedete la profondità del rapporto tra una persona e il Signore prima di andare ad avere comportare la missione uno deve certamente avere una buona fortuna di incontrarlo senza incontrare Gesù un decepolo di Gesù una decepola di Gesù mai comportare una missione effettivamente forse questo sia un messaggio grande per noi pure nella vita di Mosè lui aveva due esperienze teofeniche prima qua esodo capitolo 3 prima di andare in Egitto a salvare il popolo di Israele dell'Egitto secondo momento nella marcia verso la terra promessa vedete esodo capitolo 19 19 la gente guidata da Mosè si trova proprio sul monte Sinai Oreb la seconda volta dove si trova il momento di un'esperienza teofenica tramite cui Mosè riceve il decalogo 10 comandi pure sul monte Sinai questa è la seconda epifania seconda teofenia seconda teofenia la prima teofenia lui ha ricevuto prima di andare in Egitto la seconda teofenia prima di andare nella terra promessa quindi prima di compiere ogni missione importante una teofenia semplicemente vuol dire un incontro con il Signore un cammino personale con il Signore inevitabile a compiere la tua vocazione semplicemente vuol dire quello a vivere questa vocazione perché la vocazione ha queste due dimensioni due dimensioni sia la vocazione laica sia la vocazione sacerdotale oppure religiosa ci sono due dimensioni perché la parola che si usa nell'ebraico è kara kara questa parola al primo livello significherebbe chiamare al secondo livello significherebbe proclamare proclamare kara vuol dire chiamare e proclamare uno è chiamato per proclamare non c'è nessuna vocazione senza una missione ogni vocazione ha una missione senza una apertura ha una missione non c'è nessuna vocazione dipende del carisma della congregazione dipende del carisma di ognuno di noi quindi la cosa importante a pensare è questa carissimi fratelli e sorelle quindi un incontro personale con Gesù è inevitabile a compiere la missione affidata alla nostra chiamata e la vocazione la nostra vocazione ha due dimensioni ripeto di rimanere insieme con Gesù andare avanti come viene mandato da Gesù essere mandati da Gesù insieme con Gesù essere mandati da Gesù queste sono due dimensioni vocazione chiamata e proclamare chiamare e proclamare quindi cerchiamo di seguire ormai di le orme di le orme di Mosè nell'intraprendere la nostra missione quando Dio che si rivela quando Dio rivela se stesso a noi cerchiamo di riconoscerlo e cerchiamo di essere insieme con Lui a comportare una missione che viene naturalmente spuntata dall'energia di questo incontro personale con il Signore Salve Salutato Gesù Cristo Salve